Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il secondo video di oggi, almeno che registro, non so quando uscirà quest'altro, ma ho già registrato quello sul film di Five Nights at Freddy's che trovate qui nelle schede, perché qualche giorno fa sono arrivate delle notizie interessanti sul film horror di Bambi. Già, dopo quello su Winnie the Pooh, dopo quello sul Grinch, dopo quello già annunciato su Peter Pan, ne ho già parlato in un video, arriverà anche quello su Bambi, sul cerbiatto della Disney, almeno quello più conosciuto, ma in realtà la storia originale è un romanzo. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguire su Instagram il profilo Tickets for Nerd, lo trovate qui nella descrizione, perché lì, in tempo reale, al secondo zero, vi informo su tutte le notizie nerd e non solo, come appunto tutte le notizie riguardo anche i film horror strani come Winnie the Pooh Bladenoni e questo Bambi. In descrizione, assieme al link di Tickets for Nerd, trovate anche gli altri miei social tra Instagram e TikTok, e anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate la t-shirt che state vedendo adesso sullo schermo, e tantissimi altri design su tazze, poster, calze, zaini, chi più ne ha più ne mette, c'è davvero tantissima roba sul sito, e inserendo il codice ilpensiero4 al momento del pagamento, avrete la possibilità di inserire un paio di calze nel carrello e queste calze vi costeranno zero euro. Ma adesso parliamo di queste notizie riguardo Bambi Horror. Il film è stato annunciato forse un mese fa, se non siamo arrivati a un mese siamo a tre settimane, comunque si sa già dell'esistenza di questo film da un po', e se non sbaglio sarà prodotto dagli stessi che stanno producendo Winnie the Pooh Bladenoni e Peter Pan Nightmare Neverland. E anche per questo film su Bambi abbiamo un titolo, meglio un sottotitolo, Bambi The Reconing, ovvero la resa dei conti. La sinossi del film, già conosciuta, dovrebbe trattare di questo Bambi, di questo cerbiatto, che diventa una bestia assassina dopo che gli viene uccisa la madre. Non so effettivamente per quale motivo Bambi, in questo film ed è già stato confermato, dovrebbe assomigliare alla bestia di The Ritual, un film horror, ovvero questa qui, però così sembrerebbe. Le riprese del film dovrebbero iniziare anche all'inizio del 2023 e dureranno davvero pochissimo, proprio come quelle di Winnie the Pooh Bladenoni, anche perché credo che pure questo film Bambi The Reconing sarà fatto con qualche spicciolo e niente più. E continuo a dire sinceramente che vorrei essere nei panni di questi produttori che hanno pensato a far iniziare questo filone di nuovi film, ovvero quello di Winnie the Pooh, gli horror tratti da roba che con l'horror non c'entrano nulla. Perché producendo questi film a bassissimi costi, anche se possibilmente verranno odiati anche prima dell'uscita dei film, guadagneranno, guadagneranno anche tanto rapportato ai costi. Ora, Winnie the Pooh Bladenoni, ne ho già parlato in un altro video, uscirà al cinema per un solo giorno, quindi in America, in America arriverà per un solo giorno. In Italia il film, come avevo già previsto ed era abbastanza prevedibile per tutti, è stato già acquistato per Midnight Factory, quindi lo porteranno loro in Italia, non penso al cinema, magari arriverà su qualche piattaforma streaming, sul canale dedicato a Midnight Factory, su Prime Video quasi sicuramente, o magari direttamente in on-video, in Blu-ray, DVD. E stessa cosa penso anche gli altri film di cui vi ho già parlato, Peter Pan e Bambi. Non aspettatevi questi film al cinema qui in Italia. Se già in America ci stanno solamente per un giorno, almeno quello di Winnie the Pooh, poi quando farà i soldi, sicuramente gli altri li terranno per qualche giorno in più. E non posso che ancora complimentarmi con questi produttori che hanno avuto queste idee. Ma ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci stanno tutti i link importanti tra i miei social, Tickets for Nerd e Pampling, codice ilpensiero4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. Se invece volete supportarmi gratuitamente, basta un like, una condivisione con i vostri contatti, qualche commento qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate, e magari un'iscrizione se vi trovate qui per la primissima volta. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!